Dopo di tempo stanno fiorendo qua e là infiniti convegni, dibattiti, ragionamenti, riunioni intorno all'ebook, intorno al mercato elettronico. Naturalmente a parlare di questi argomenti vengono invitati un po' tutti, nessuno pensa di invitare me che ho pubblicato il primo ebook nel 1997 e ho creato la prima piattaforma in assoluto per la vendita degli ebook nel 2004 alla quale si sono ispirati pesantemente tutte quelle altre che sono arrivate molto dopo, io parlo dei booksitalia.com, non mi invitano perché non faccio parte della compagnia di giro degli ebook, poi sarebbe molto imbarazzante per alcuni invitare chi è arrivato prima di tutti gli altri e riconoscere di non essere stati i primi in Italia a pensare al libro elettronico. Ma fate i vostri discorsi, dibattete, io produco, produco, produco quotidianamente ebook ed ora sto lavorando molto per le strinne di Natale.